Buonasera a tutti, buonasera, sono Andrea Paoli e questo lo presento ma non ha bisogno di presentazione, domenica l'affronto. Questi dolci stasera sono costruiti tenendo appunto 2-3 sensazioni di gusto, morbido, setoso e croccante. La scelta di questo dolce stasera, anche se sono due dolci insieme, ha una sua architettura, una sua armonia. Precante dal punto di vista delle combinazioni di sapori e questo e le persone più abbezze al gusto riescono a cacciapire, però le dobbiamo accompagnare. La scelta di questo dolce stasera, anche se sono due dolci. La scelta di questo dolce stasera, anche se sono due dolci. Ci abbiamo una sfera di cioccolato dove all'interno c'è un piccolo mondo. di questo dolce stasera, anche se sono due dolce stasera, anche se sono due dolci. A l'armoni anche se sono due dolce stasera, anche se sono due dolce stasera. faremo una piccola gara, benvenuta fuori ora il più bravo potrebbe avere in omaggio un corso ma che sta in una scuola qui vicino ma potrebbe essere, va, va, mi è venuto così brava, bravissima bravato ascoltiamo un po' di musica col maestro e poi ci sarà la gara con gli uomini aspiriamo a fare in modo che questa cosa diventi un patrimonio di tutti lo facciamo con passione, lo facciamo con amore e con voglia di condividere tutto quello che facciamo vi invito a visitare il nostro sito e buona serata, grazie a tutti